Buongiorno, è un grandissimo piacere darvi il benvenuto oggi a Palazzo Ducale. Siamo molto felici di vedere che avete accolto questi inviti, questa opportunità molto numerosi, quindi anche un grazie a tutti gli insegnanti che in questo periodo dell'anno, che sappiamo benissimo non essere semplicissimo nell'ambito delle programmazioni e delle uscite, siete riusciti invece facendovi sicuramente in quattro a portare le vostre classi, quindi davvero un caldissimo benvenuto. Con questo appuntamento apriamo ufficialmente quello che è il progetto IANUA, Genova nel Medioevo e tutta una serie di manifestazioni, di incontri, di appuntamenti sul territorio che in questo progetto sono racchiusi, progetto che ha come Mem Curator il professor Musara, Antonio Musara che è docente di storia medievale all'Università della Sapienza di Roma e moltissime altre cose che però non sto a riassumere e che desidera proprio riportare l'attenzione, incentrare l'attenzione su un'epoca veramente straordinaria del nostro passato, un'epoca in cui Genova ha avuto veramente una centralità eccezionale, un momento della storia, un'età veramente affascinante per quanto forse non sembri sempre così quando la si studia a scuola ma veramente un lungo periodo di grandissimo interesse che merita di essere conosciuto in tutte le sue societature e in cui Genova appunto ha avuto una straordinaria centralità davvero a livello mondiale o perlomeno per quello che era il mondo per noi occidentali in quel tempo, una centralità economica, commerciale, culturale, artistica ma non soltanto una grande centralità ma anche una proiezione verso paesi lontani, una grandissima espansione anche in questo caso a livello quasi mondiale e su questa espansione si soffermerà il convegno che inizia oggi, l'impero dei genovesi che invece è curato da Marco Ansaldo che è inviato speciale per le politiche internazionali, vaticanista e consigliere scientifico di Limes, della rivista di geopolitica Limes e Lucio Caracciolo che è il direttore della rivista Limes nonché curatore della rassegna del festival Limes che ogni anno si svolge proprio qui a Palazzo Ducale con una grandissima anche partecipazione proprio di voi studenti. Purtroppo Lucio Caracciolo non potrà essere presente qui fisicamente per una questione semplice di salute che non si è purtroppo risolta in tempo però si collegherà fra poco online da Roma quindi comunque l'intervento che era previsto sarà svolto lo stesso. Con noi c'è anche stamattina il professor Benente che è docente di archeologia cristiana e medievale all'Università di Genova e che avrà una sua nonché prorettore per la terza missione sempre dell'Università di Genova. Io non voglio assolutamente far perdere altro tempo a questa mattinata che sarà sicuramente intensa, vi do anzi appuntamento comunque a continuare a seguire i lavori del convegno che si protreranno nel pomeriggio e nella giornata di domani quindi spero che davvero sia una mattinata interessante, affascinante e lascio quindi la parola in questo momento a Marco Ansaldo che come appunto curatore del convegno introdurrà i lavori della mattinata. Grazie. Grazie, grazie Maria Fontana della presentazione. Allora partiamo con il convegno sull'impero di Genova, io sono molto felice ed è del resto tradizione di Limes di aprire con l'apertura alle scuole e avere, del resto voi conoscete che, voi sapete che da un paio di anni Limes ha aperto una vera e propria scuola che poi dà la possibilità di conoscere e accedere al mondo del lavoro. Noi oggi partiamo con tre ospiti, Maria Fontana li ha già presentati, io ve li ripresenterò di volta in volta, ma insomma l'importante è partire come facciamo sempre ai tradizioni di Limes con la prima sessione del mattino dedicata alle scuole. Allora vi presento Antonio Musarra che è il direttore del progetto IANUA, quindi Genova nel Medioevo, professore associato di storia medievale presso la Sapienza Università di Roma e fellow di Harvard. Si occupa di storia marittima e navale, di storia delle crociate dell'Oriente latino e di storia francescana. Tra i suoi ultimi libri c'è 1492, Diario del primo viaggio, è un libro che è edito dalla terza e due anni fa è andato molto bene, ma è andato, ho visto molto bene, ci sono tanti amici che lo stanno leggendo, L'isola che non c'è, Geografia immaginario tra Mediterraneo e Atlantico, pubblicato invece da Il Mulino lo scorso anno, quindi un libro molto molto fresco. Del resto Musarra è più volte ospite televisivo alla 7, anche alla radio presso Radio 3 e quindi gli lascio molto volentieri la parola. Bene, allora buona mattinata a tutti, intanto chiedo a Lorenzo, al nostro tecnico, di caricare le slide relative al mio intervento, ma lasciatemi innanzitutto ringraziare voi tutti presenti, lo staff di Palazzo Ducale, l'IMES, Marco Ansaldo e Fabrizio Venente per aver organizzato questa mattinata che per me è fondamentale. Io lo dico subito, soprattutto per i colleghi qui presenti e le colleghe qui presenti, e oggi parlerò ai ragazzi delle scuole, quindi farò un discorso che non vuole essere banale, ma che vuole essere essenziale, perché? Perché anch'io ho avuto 16-17 anni e giustamente quando alla vostra età, uscendo dal mio liceo, giravo per Genova, del Medioevo non mi accorgevo affatto. I pensieri erano altrove, alle ragazze per lo più, come giusto che sia, però questo Medioevo è un Medioevo presente, poi però ho recuperato dopo. Ho recuperato dopo dove? Nel passaggio tra la scuola superiore e l'università, quando raggiungendo a piedi l'Ateneo Genovese, che come sapete, proprio quando lo frequentai io, una ventina di anni fa possiamo dire, si era spostato nella zona di via Balbi, beh, per raggiungere l'Ateneo bisognava passare da via Canneto al Curto e da altre vie del centro storico, scendendo da De Ferrari. Facendo questa passeggiata quotidiana avanti e indietro, beh, a un certo punto questo Medioevo si comincia a respirarlo. Io mi auguro che dopo questa nostra chiacchierata anche voi possiate cominciare ad accorgervi, se non altro, di questo Medioevo che a volte abbiamo sotto il naso, ma del quale conosciamo poco. E allora, prima ancora di parlare di questa grande espansione, su cui soprattutto Fabrizio Venente, prorettore dell'università, ci mostrerà visivamente, grazie alle campagne di scavo, lui è archeologo, che ha condotto nell'Oriente, in questo Oriente molto spesso immaginato, ma in realtà concretissimo, abbiamo pensato di partire da qualcosa di molto basilare, da una domanda. Attenzione che poi scoppia il compito in classe su queste cose, eh. Dov'è il Medioevo a Genova? Dov'è la città medievale a Genova? Beh, innanzitutto ci sono alcuni luoghi piuttosto iconici che immediatamente guardandoli ci rappresentano la città medievale, che noi colleghiamo a questa bicromia bianconera che spesso compare in diversi palazzi del nostro centro storico e non solo, ecco. Ma in realtà la città medievale è molto più grande, perché su di essa sorge fondamentalmente il nostro centro storico. Ovviamente il Medioevo non si ferma al centro storico, le delegazioni, così si chiamano, i quartieri che stanno attorno al centro storico, hanno del Medioevo conservato, magari nascosto, ma c'è. Noi quest'anno col progetto IANUA vogliamo partire dal centro storico, proprio per andare alla ricerca di questo Medioevo e permettere dunque a chi passeggi distrattamente di rendersene conto. Non so se riconoscete da questa foto la conformazione del centro storico genovese, ma molto per intenderci possiamo suddividerlo in tre zone che sorgono e crescono nel corso del tempo. Attenzione, Genova è una città antichissima, è una città che sorge su quel villaggio, gli esperti lo chiamano Oppidum, pre-romano, che era collocato nella zona della collina di Castello, da piazza di Sarzano, grosso modo, dove c'è oggi la facoltà di architettura. Ebbene, quella zona viene rivitalizzata nel corso dei secoli centrali del Medioevo, questo contenitore che noi siamo abituati a spingere tra il V e il XV secolo, ma che di fatto non esiste, è una pura convenzione, perché proprio in quella zona, attorno al X-XI secolo, abbiamo un insediamento, un insediamento da parte di colui che probabilmente in Genova ha un ruolo politico importante, che è il Vescovo. Vedremo cosa rimane di questo insediamento del Vescovo. Questa zona non a caso si chiama Castrum, che in latino vuol dire castello, bravi, perché lì probabilmente sorgeva un insediamento fortificato. Il Vescovo aveva bisogno di proteggersi o forse di mostrare la propria potenza. Ma in realtà Genova si espande anche oltre questa zona del Castrum, verso l'area della cattedrale, che per la verità corrisponde alla fase della Genova romana, e che noi siamo abituati a chiamare Civitas, e che non a caso ha, almeno apparentemente, poi gli storici sono d'accordo o meno, una conformazione grossomodo a quadrilatero, sulla base degli accampamenti romani. La cosiddetta Civitas è quella che sta alla base del colle di Castello, e che si sviluppa contemporaneamente nei secoli dell'Alto Medioevo, e soprattutto centrali del Medioevo. Progressivamente questa Genova però si allarga, vedremo tra poco come i benefici economici, il commercio, insomma la popolazione cresce, c'è necessità di allargare la città, e dove si allarga? Verso l'area del Burgus, che sta verso Ponente, fatemente locale, la zona grosso modo che da Sozziglia va fino a Porta dei Vacca, e poi oltre, fuoriuscendo dalla città fino ad arrivare alla splendida commenda di San Giovanni di Pre. Questa è un po' la città, che vediamo qui rappresentata in tre immagini abbastanza iconiche, la famosa Torre de Castro, abbiamo imparato, Aurora Cagnana, Fabrizio Venente, ci hanno insegnato che non è la Torre degli Embriaci, che si trova da tutt'altra parte, e lo scoprirete spero durante l'anno, ma questa torre è una delle quindici torri, pensate, tutt'oggi riconosciuta all'interno delle strutture murari, e si trova proprio nell'area del Castrum. La Civitas, che si espande oltre la splendida Porta Soprana, e che naturalmente raggiunge fino al mare, è il Burgus, con la Porta dei Vacca, che è stata rilevata, peraltro, dall'Università di Genova, e con la quale speriamo di poter collaborare, con la quale la città si conclude quantomeno nei suoi confini murari per un certo periodo. Perché? Perché le mura di Genova nuovamente crescono, con il crescere della popolazione. Potete vedere, in questo caso, due circuiti murari. Quello più piccolo, ve lo indico in questa maniera, è certamente corrispondente alla cinta alto medievale, per intenderci Porta Soprana, si trova in questa zona, noi siamo grossomodo qui. Come potete vedere, la cinta si allarga, appunto, ad arrivare fino a Porta di Santa Fede, forse chiesa templare, e Porta dei Vacca. Ecco, questo è l'allargamento che avremo nel XII secolo, ma non è l'ultimo allargamento. Se noi guardiamo a quello che succede nel XIV secolo, vediamo che la città si allarga ancora, comprendendo anche il borgo di Pre, fino alla porta di Santo Maso, grosso modo, dove si trova oggi la Villa del Principe. Queste immagini sono prese dal Companion to Medieval Genoa, che è uscito qualche anno fa, curato da Carrie Baines, una studiosa americana, che dovrebbe essere a Genova, proprio in questi giorni. Al suo interno, Genova va dividendosi in, potremmo chiamarli quartieri, in realtà non è proprio corretto chiamarli in questa maniera. Loro, nel XII secolo, li chiamavano compagne, non sono i sestieri a cui siamo abituati a pensare, sono delle circoscrizioni, noi le definiamo demotopografiche, lo so che è difficile, ma che radunano, diciamo, ampie zone della città, che hanno una caratteristica, quale? La potete osservare quella di sfociare direttamente a mare. Erano sette, diventano otto, proprio nel corso del XII secolo. Castello, Piazza Lunga, Maccagnana, San Lorenzo, Porta Sozziglia, Porta Nuova e Borgo. Scusate, spengo il telefono se no. Questa è grossomodo la suddivisione della città e all'interno di questa città naturalmente vivono i genovesi. Cosa fanno i genovesi per vivere? Soprattutto cercano di guadagnarsi da vivere con una serie di attività economiche. Questo è un dato importante, secondo me è un dato fondamentale da presentare sin da subito prima ancora del profilo politico della città. Genova è una città che vive del mare e che vive sul mare e che grazie al mare prospera. Sarà un dato banale, direte voi. In realtà non è così, proprio per quanto diremo tra poco in merito alla sua eccezionale espansione. La città stessa sorge sul mare, tant'è che alcuni studiosi hanno pensato di categorizzarla come una città trattino porto. Non una città con il porto, né una città senza porto o col porto distante. No, è una città-porto, cioè le sue strutture materiali crescono in funzione di quella che è l'attività principale, ovvero l'utilizzo del porto. Lo vediamo benissimo dai portici cosiddetti di Sottoripa, che riprendono peraltro architetture che si trovano altrove nel Mediterraneo. Un chilometro di portici costruiti nel XII secolo sotto i quali avvenivano le principali attività economiche, scaricomerci, caricomerci, ma non solo. Lì sorgevano le prime banchine, i primi moli, i moli in legno che poi saranno sostituiti nel Quattrocento con moli in muratura. E naturalmente il porto è la grande piazza pubblica di questa città. Ciò verso la quale tutti i genovesi guardano in quelle due cerchietti, vedete ad esempio i luoghi dove sorgono le prime strutture cantieristiche, perché Genova a un certo punto, per secondare questa voracità di mare, si dota di una flotta di navi, grandi navi commerciali, anche di una flotta militare, di galè, galè adatte per la guerra, basse sull'acqua, veloci, che è generalmente una flotta privata. E qui sorge un altro elemento. Il pubblico esiste a Genova, forse nel Medioevo il concetto di pubblico non esiste ancora, ma questo è un discorso molto complesso, ma certamente protagonisti di questa storia sono i genovesi. Ed ecco la Genova del Quattrocento, quella che vede Colombo Giovinetto, dove potete notare negli stessi posti addirittura l'erezione di un vero e proprio arsenale. E poi le calate e i moli e ovviamente i suoi grandi fari. Questo è grosso modo ancora la Genova che noi possiamo osservare oggi, con le galè, eccole qua, e le grandi navi che in questo caso stanno rientrando addirittura da una crociata, quella di Otranto. Questi spazi sono spazi vissuti. Sono spazi vissuti innanzitutto economicamente. Questa immagine è tratta da un manoscritto splendido, il cosiddetto codice cocarelli appartenente a questa famiglia provenzale che scappa dalla Terra Santa, nel momento in cui la Terra Santa viene conquistata dai mamelucchi, siamo alla fine del XIII secolo, e che, guardate un po', si rifugia proprio a Genova, dove porta avanti le sue attività economiche. Siamo riusciti a raccogliere tutte le carte di questo manoscritto, a fare l'edizione di quello che c'è scritto dietro, questo lo dico per i colleghi, e l'edizione uscirà entro la fine dell'anno. Parla molto di Genova, parla molto di Genova perché questa è la Genova che la famiglia cocarelli vive e che ci descrive, vedremo altre immagini dei cocarelli, e ci descrive che cosa? Beh, delle attività economiche, delle attività di scambio, banco, pegni, addirittura forse un gioco ludico con del denaro piazzato lì in mezzo. E questo facevano i genovesi, ovviamente non tutti, donne e uomini. Se non sbaglio, proprio il primo atto notarile conservato nel nostro archivio di Stato, guardo naturalmente Giustina e Daniele, riguarda proprio l'attività economica di una donna che commercia, o meglio investe il proprio denaro, pensate niente meno che ad Alessandria d'Egitto, e siamo nel 1156. Ora, naturalmente non c'è solo l'economia a Genova, ci sono anche gli spazi politici, qui entreremo in un discorso lunghissimo perché Genova è una città in un certo senso molto litigiosa, dove il potere viene rimpallato da una parte all'altra. Abbiamo anche dei tentativi di controllare il potere secondo metodi non convenzionali, ad esempio controllando quello che chiamiamo debito pubblico, che a Genova probabilmente sorge. Le prime attestazioni possono datarsi alla metà del XII secolo. Certamente l'area di castello, che vedete qui rappresentata, dove sorge, dicevo, la facoltà di architettura è l'area dove storicamente questo potere si esercita, proprio grazie al vescovo di cui vi dicevo prima e di cui rimangono ancora delle tracce che saranno inserite nel percorso che faremo, che abbiamo organizzato per l'11, 12 e il 13 ottobre di quest'anno. Andremo proprio alla ricerca di questo potere vescovile che sino a tutto l'XI secolo è strettamente legato all'interno, impero. Ecco, Genova è una città che sta all'interno del regno d'Italia e che pertanto guarda all'imperatore germanico come ha il proprio superiore, almeno fino alla prima crociata, quando le cose cominciano a cambiare. Ma di questo vi parlerò oggi pomeriggio. altri luoghi del potere, chiaramente anche il potere ecclesiastico ha un suo peso non solamente nell'area di castello ma anche in quella della Civitas e ruota attorno alla cattedrale che tutti quanti oggi possiamo ammirare dopo il restauro recente, vi consiglio di andarla a visitare, che è qualcosa di veramente strepitoso. Ma quel che conta a Genova sono soprattutto le famiglie. Questo potere è in mano a un gruppo di famiglie che viene a formarsi grossomodo tra XI e XII secolo. In mezzo c'è il passaggio importante della prima crociata e che sono dislocate in varie zone della città. Nuovamente il companion to me di Valgino ci fornisce questa mappa piuttosto accurata con l'elenco delle famiglie più importanti, ma alcune le conosciamo bene, peraltro alcune ancora oggi sono vive e vegete, pensate ai Doria, pensate agli Spinola, ai Fieschi in certo senso, anche ai Grimaldi e via dicendo. Le famiglie si appartiscono questo potere per buona parte del XII secolo e costruiscono all'interno della città delle proprie piccole roccaforti, delle proprie curie familiari, dei propri quartieri diremmo oggi. Quello che avete visto, ad esempio, è la chiesa dei Doria, per così dire, attorno alla quale sorgono le abitazioni della famiglia Doria. Anche questa zona sarà compresa negli itinerari di ottobre. Però a un certo punto succede qualcosa. Per tutto il XII secolo queste famiglie prosperano e però prosperano anche coloro che non appartengono a questa ristretta cerchia di governatori che noi chiamiamo consoli. Un nome che vi fa venire in mente che cosa? Beh, chiaramente l'antichità romana, il riferimento culturale era quello. Ci sono molti altri che consoli non sono diventati e che spingono per salire al potere. Questo ha luogo nel XIII secolo con una certa famiglia, sempre alleandosi con una parte di quelle famiglie precedenti che ormai costituiscono la nobiltà. Il Palazzo del Mare è il primo tentativo di un membro non della nobiltà, ma del cosiddetto popolo, che ha un significato politico e non solo sociale, di assurgere a queste leve del potere. Economicamente il popolo può sostenere, può tenere testa alla nobiltà del XII secolo. È un tentativo perché non ci si riesce. La nobiltà è talmente forte che procrastina al momento dell'ingresso ufficiale del popolo e anzi interrà le redini grossomodo della politica cittadina oltre questo periodo. Qui siamo alla metà del Duecento con il Palazzo del Mare, tant'è che un vero e proprio palazzo pubblico, che dall'alto si capisce molto meglio, che poi non è altro che il luogo dove ci troviamo noi le fondamenta di Palazzo Ducale, verrà costruito ed eretto sulle case di un membro della famiglia Fieschi solamente attorno al 1290-1291. Lo vedete, ci passate davanti, via Tommaso Reggio, vedete che ha la forma di un broletto, se vogliamo, con una torre centrale, ma non ce ne accorgiamo perché è seminascosto dai palazzi. Genova, città litigiosa. Nuovamente il codice Coccarelli ce ne fornisce un esempio. Questa è l'unica immagine a mia conoscenza di quello che è un bando di esclusione. I te maledicti in ignum, andate all'inferno. È molto chiaro, anche Genova si divide in guelfi e ghibellini a un certo punto, a Genova si chiamano rampini e mascarati, ma la sostanza è la stessa, sono lotte tra fazioni, che giungono addirittura a cacciare via dalla città coloro che non sono ben graditi, spesso intere fette della popolazione, che generalmente si rifugia dove? A Savona. Si rifugia a Savona, tentando di rientrare in città. Alla fine però il popolo avrà il sopravvento, tant'è che nel 1339 Simon Boccanegra, finito il tempo e madrubo ancora cinque minuti, Simon Boccanegra, popolare, riuscirà a farsi nominare niente meno che primo doge ad modum ducum veneticorum, si dirà, cioè così come fanno i veneziani, che non ci piacciono, ma ne copiamo comunque le istituzioni, più o meno, perché a Genova il doge sarà sempre maschio, popolare e ghibellino. E questo accompagnerà la storia di Genova fondamentalmente, con molti rivolgimenti, fino al 1797, salvo un piccolo particolare, questi dogi prima vita, biennale, eccetera, eccetera, insomma a un certo punto dovranno cedere il passo alle grandi potenze europee del tempo, Milano, la Francia, perché? Perché i genovesi a un certo punto capiscono, ma sì, governate pure questa città che tanto a noi ci interessa fare gli affari, noi la governiamo da sotto. Ecco. Allora, ultimo punto molto velocemente, Genova è una città fortemente religiosa, è qualcosa che si vede molto bene, nuovamente il codice Cocarelli ci presenta la immagine più antica che abbiamo della cattedrale di Genova, la vedete lassù in cima, con dei particolari eccezionali, come la famosa statua, è sempre stata chiamata dell'arrotino, ma questo dovrete spiegarmelo, non so perché, è una meridiana in realtà. Guardate la precisione di questo miniaturista che vive negli anni 30 del 300. È una città di abbazie, Santo Stefano, San Siro circondano la città, che però poi a un certo punto cambia volto quando arrivano, beh, innanzitutto gli ordini militari. La commenda di Pre è uno dei più importanti ospedali dell'ordine di San Giovanni, l'ordine ospitaliero d'Europa, probabilmente esemplato proprio sulla chiesa che i cavalieri ospitalieri, che erano amici dei templari, salvo d'arsene ogni tanto di santa ragione, avevano proprio a Gerusalemme. Quando la città cambia veramente? Con il 200, con l'arrivo degli ordini mendicanti, che voi sicuramente avete studiato, tutti ricordano i domenicani, no? E i francescani, no? Li studierete. I domenicani dove stavano a Genova? Convento di San Domenico, Piazza dei Ferrai, oggi centralissima, all'epoca un pochino più decentrata. Convento di San Francesco, Via Balbi, nuovamente oggi centralissima, ma in realtà all'epoca era ai margini della città. Sant'Agostino, già un pochino più interna alla città, con l'ordine degli agostiniani e poi i carmelitani nella zona del Carmine. Se voi osservate bene, ci troviamo di fronte a una cintura che, nella più classica delle maniere, avvolge la città di Genova, ma ne cambia lo skyline, direte voi, diremmo oggi. Questa è dunque la Genova dalla quale si parte e alla quale talvolta si torna. Ma poi esiste un'altra Genova, che io vi mostro velocissimamente per dare la parola a Fabrizio Benente, che ve la farà vedere nel concreto, che è quell'altra Genova che i genovesi costruiscono altrove. Come dice un famoso poeta anonimo di fine 200? Ha tre sene che fa, no? Ed è una Genova che innanzitutto parte dalla Liguria, che in realtà non viene mai controllata. In Liguria rimangono enormi sacche autonome. È una Liguria macchia di reopardo, se vogliamo. Ci sono delle città ponente, ci sono dei poteri signorili sparsi in tutto il territorio. Ma poi questa Genova si allarga, si allarga a un luogo fondamentale per il passaggio del commercio. Questo pomeriggio Alessandro Soddu ci racconterà qualcosa di più approfondito sulla Sardegna e la Corsica e la loro importanza per Genova. Bonifacio, l'oculus marinus, ianoe, l'occhio marittimo di Genova, a controllo delle famose bocche, quindi di un passaggio fondamentale, costruendo quello che è un impero. Oggi pomeriggio io partirò proprio da questo, ma possiamo veramente chiamarlo impero, quello genovese? Sarà la domanda iniziale. Certamente è un impero marittimo, se vogliamo, dove i genovesi si disperdono dappertutto, come potete vedere, dalle fiandre, lassù in cima, oltre le famose colonne d'Ercole che superavano tutti, questo l'abbiamo detto in tutte le salse, alla Terra Santa, al Mar Nero, alla Crimea. E poi ancora la crociata, non mi ci soffermo, ma l'ho già detto prima, è con la crociata che questa espansione comincia a guardare sempre più verso Oriente e porta i genovesi in una città che non è Genova, come qualcuno si ostina a ripetere, ma che è Acri. Il principale porto di Terra Santa oggi è Acco, città bellissima, se potete andate oggi, no, oggi è difficile, andate a visitarla, che sembra assomiglia un po' a Genova. Forse il miniaturista genovese si ispira alla sua città, non lo sappiamo. Abbiamo tradotto quello che c'è scritto dietro questa carta, sempre del codice Cocarelli, e sicuramente si tratta di Acri. Li troviamo a Cipro, questa è la chiesa di Famagosta. Li troviamo naturalmente a Pera, ovvero sulla collina di Galata, dove sorge una città genovese, non un quartiere. Galata oggi è noto per Galatasarai, ovviamente, per questioni calcistiche. In realtà quella era una città genovese che col tempo, nel 1300 circa, acquista addirittura dei privilegi di extraterritorialità. E poi li troviamo nel Mar Nero, di cui parleremo a lungo in questi giorni, anche grazie ai professori qui presenti. E guardate nel Mar Nero come la presenza genovese si dispiega con decine di insediamenti che hanno lasciato moltissime tracce materiali, come ad esempio a Caffa, oggi Teodosia, come ad esempio Sudak, immagine famosissima, con le sue mura, ancora oggi in piedi, su cui c'è un progetto del governo turco. E poi naturalmente ci si spinge oltre. Ancora il codice Coccarelli ci mostra l'espansione verso Oriente, con questa splendida miniatura che ritrae addirittura una corte mongola, con cui i genovesi entrano in contatto nel corso fra due e trecento. E poi ancora le isole, le grandi isole Ge, ad esempio l'isola di Chio, che si trova qui in mezzo e che, come potete capire, è uno snodo fondamentale per recarsi appunto verso il Mar Nero. Non a caso per quell'isola compiranno delle guerre con Genova e Venezia. In ultimo, la presenza genovese in Cina. Abbiamo l'onore di ospitare l'autrice di un libro sui genovesi in Cina, GIE, che si trova lì in fondo e che ci ha illustrato, assieme a molti altri studiosi, queste due lapidi famose che sono state ritrovate a Jansu in Cina, che citano due fratelli, Domenico e Caterina, della famiglia Ilionis, lì morti e sepolti. Come potete vedere, dunque, una presenza straordinaria, una presenza che impareremo a conoscere, lo dico sempre ai ragazzi e alle ragazze, durante quest'anno, con un programma di iniziative eccezionale, addirittura settimanale, messo assieme grazie allo sforzo di tanti enti e di tante istituzioni di questa città. Grazie. Grazie. Grazie al professor Antonio Musare di questa introduzione brillante che ci ha portato dentro la Genova medievale e anche si è diffuso sugli inizi dell'espansione, che poi approfondiremo nelle altre relazioni. Ma a proposito di andare nel profondo, lascio la parola a questo punto a Fabrizio Benente, che è professore ordinario di archeologia cristiana e medievale presso l'Università degli Studi di Genova. Dal 2020 ricopre l'incarico di pro-rettore alla terza missione dell'Ateneo Genovese, ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Siena e Genova e presso l'Albright Institute of Archeology. Ha partecipato a missioni archeologiche in Corsica, Grecia, Tunisia, Libano, Mongolia interna, Crimea. Ha diretto scavi archeologici in Italia e missioni archeologiche in Israele e in Palestina. Fra le sue ultime pubblicazioni sono in inglese Power and Control in Crusader Akko, The Fortifications of the Genovese Quarter, questa per la rivista Atticot e invece per la rivista Hadashot, Akko, The Old City Genovese e gli lascio molto volentieri la parola. Prego. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi presenti e a chi ha organizzato questo bell'avvio del nostro progetto, del progetto del Comune di Genova che coinvolge anche l'Università, Palazzo Ducale e tanti soggetti attivi nel nostro territorio. Allora, anch'io ho preparato questa mattina essenzialmente una presentazione per i più giovani, diciamo. Poi oggi presenteremo dati scientifici in maniera un po' più impegnativa, ma oggi volevo iniziare così. Allora, prima di me Antonio Musarra ha illustrato benissimo una Genova che si vede, una Genova visibile, basta alzare gli occhi, aprire gli occhi e avere curiosità e attenzione. Io vi parlerò tra poco di città e luoghi invisibili, di percorsi poco visibili e di luoghi remotissimi. Essenzialmente vi porterò con me a fare un viaggio in una delle missioni, delle due missioni che abbiamo fatto sulla Via della Seta. Ma prima ancora di questo vi devo dire, tra me e Musarra c'è una cosa, ci sono tante cose non in comune. Lui è molto più giovane, lui va molto più di me in televisione, ma c'è una cosa in comune. Ci siamo formati tutti presso l'Università di Genova che ci ha offerto fin dall'inizio, fin da quando eravamo studenti del primo anno, l'opportunità di proiettare il nostro interesse proprio per una capacità che c'era dentro il vecchio istituto di storia medievale, e guardo Laura Balletto che è stata una delle nostre docenti, la possibilità di studiare, guardare verso l'oltremare, verso l'espansione dei genovesi, verso le altre Genova, verso gli altri territori, verso confini che erano talmente lontani che per definirli bisogna chiamarli così, oltremare. Cosa ci sarà così lontano, no? E questo per me ha significato a 19 anni poter andare a scavare in Grecia, prima dei 30 anni poter fare missioni in Tunisia, poter fare missioni di nuovo in Grecia, poter andare a scavare, a studiare gli insediamenti del Libano, ne parlerò oggi pomeriggio, poter andare a fare ricognizioni e lavoro lungo la Via della Seta. Questo ha significato poter scavare per dieci anni nel territorio attuale di Israele, a San Giovanni d'Acri, nel territorio attuale della Cisgiordania, a Sebastia. Questo ha significato, questa appartenenza, questa particolare attenzione dell'Ateneo genovese verso l'espansione inoltremare, verso l'espansione mediterranea e oltre, ha significato veramente la possibilità di realizzare quello che poteva essere all'inizio un sogno. E partiamo proprio da questo, partiamo proprio da un sogno che può avere un ragazzo di 19-20 anni quando legge Diavoli stranieri lungo la Via della Seta, quando vede determinati film, quando si emoziona leggendo dei viaggi della scoperta del Tibet da parte di un italiano, Giuseppe Tucci, negli anni 30. E quando sogna, ovviamente, con quella che può essere la mentalità di un ragazzo di 18-19-20 anni, di poter mettere i propri passi, le proprie orme sulle orme di coloro che, soprattutto a partire dall'epoca Wemn, dall'epoca in cui i mongoli riaprono la Cina alle vie, scusate, con questo, alle vie di collegamento col bacino mediterraneo. E in questo momento i genovesi, e non solo, anche i veneziani, si proiettano con percorsi lunghissimi di mare, di terra, con una mobilità incredibile che coinvolge soprattutto mercanti avventurieri e, chiaramente, anche uomini di fede, uomini di religione, spinti a portare il cristianesimo, dove già peraltro, il cristianesimo cattolico, dove peraltro già c'erano forme di cristianesimo, perché erano stati preceduti dai monaci e dai pellegrini nestoriani, della religione nestoriana. Vi parlavo di città invisibili. La prima di cui vi voglio parlare è Olonsume. Cosa sappiamo di Olonsume? La troviamo, intanto dov'è? È nella Mongolia interna. La Mongolia interna, l'Inner Mongolia, è una regione che dopo la Seconda Guerra Mondiale è rimasta sotto il controllo del governo cinese. È una parte della Grande Mongolia che, in qualche modo, oggi è inserita, integrata nella geografia politica della Cina. Arrivarci già non è stato semplice. Arrivarci non è stato semplice. Mi piace sempre raccontare, era il 2001, era esattamente il momento in cui Genova era stata travolta dai fatti del G8 e tutti noi eravamo, in qualche modo, scioccati da quello che era successo in questa città per diversi motivi, anche per una sorta di smarrimento e disappropriazione, si può dire, mancanza di appropriazione della città perché era stata, in qualche modo, violata da tutta una serie di altre cose. La violenza sulle strade, la violenza negli spazi, la violenza sulle persone. Partire, pochi giorni dopo, voleva dire arrivare in luoghi lontanissimi, in luoghi remotissimi, sullo stimolo dei nostri docenti, sullo stimolo di Gabriele Iraldi, sullo stimolo di Paola Mortari Caffarelli, per andare a studiare archeologicamente, non da sinologo, non da specialista dell'archeologia orientale o della Cina, ma semplicemente da archeologo che lavora sul campo, che quindi metodologicamente si occupa di ricognizioni, di lettura, di strategie, di indagine, per andare a studiare un qualcosa che stava già nella, diciamola così, protostoria dell'archeologia orientale, perché prima di noi altri, tra cui un giapponese, Namio Egami, avevano individuato, scoperto questa città di epoca mongola, completamente perduta in un territorio spopolatissimo, lontanissimo dai centri di vita della Mongolia interna, e quasi invisibile. Non avevamo ancora le immagini Google Earth, nel 2001 avevamo qualche foto satellitare, e io ricordo l'arrivo in Cina, molto semplice a Pechino, ma poi il trasferimento interno verso Huot, che è il luogo, l'aeroporto della Mongolia interna, e poi quest'ulteriore trasferimento tramite fuoristrada, perché le strade finivano e c'erano solo piste, verso Olonsume. Certamente su queste vie ci avevano preceduto i mercanti, ci avevano preceduto i religiosi, religiosi, c'erano stati dei Liguri, andalò da Savignone, raccontato anche in maniera romanzesca, c'erano stati addirittura persone che partivano dai luoghi dove io abitavo. Andrea Franco De Nasi, nasci e nascio in Val Graveglia dove vivo io, che anche lui coinvolto insieme a tutta la sua famiglia in una lunga ambasciata, nel momento in cui gli alani che abitano a Kambaluc, cioè a Pechino, mandano un'ambasciata al Papa, che non sta a Roma, ma sta ad Avignone, per chiedergli un arcivescovo, essendo venuto a mancare, essendo deceduto il precedente. E c'era la presenza francescana, c'era la presenza di evangelizzazione. Sapevamo, sapevamo di Olonsume, grazie agli studi di Nami e Gami, che c'erano delle presenze cristiano-nestoriane e sapevamo, per la menzione delle fonti, che il sito in qualche modo era stato cristianizzato. Perché? Ma semplicemente perché una parte consistente, soprattutto la parte femminile, della corte, delle corti mongole, che governavano questi territori, era stata cristianizzata appunto dagli evangelizzatori nestoriani. Ecco, questi sono i luoghi, questi sono i paesaggi, questi sono gli spazi, gli spazi che io scoprivo giorno per giorno. Siamo stati giù un mese circa. Spazi desueti per i miei occhi, case costruite ancora con tecniche per me interessantissime, case di terra e fango, case semplicemente atte a essere molto ben coibentate, perché all'interno l'escursione termica, che in quelle zone è altissima, la si percepisce molto di meno. Fattorie elettrificate. Io in quegli anni avevo in mente un disco, Tabula rasa elettrificata, quasi nessuno di voi l'avrà sentito, era di un gruppo musicale che adesso sta tornando, ma avevo in mente quel racconto, quella definizione. Quel disco partiva da un viaggio in Mongolia, non nell'inner Mongolia, ma nella grande Mongolia, di Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti. E io per paradosso mi ritrovavo su quelle strade, su quelle medesime strade, e vedevo le stesse cose. Vedevo la tabula rasa con la linea elettrica che univa luoghi lontanissimi. Un forno, fattorie con... aveva la stagione della pioggia, che è una stagione breve, la stagione che precede, un'estate poi caldissima, che queste vie erano completamente allagate. E i luoghi del lavoro, questo è il luogo dove noi ci siamo fermati, a Olonsume, abbiamo lavorato, vissuto insieme ai colleghi dell'Istituto Archeologico della Mongolia Interna, insieme ad alcuni colleghi dell'Istituto Italiano di Cultura. Questo è il mio maestro, Carlo Varallo, perché alla domenica cercavamo anche di avere un minimo di assaggio dello stile di vita mongolo. E questo è l'equipe di lavoro italo-cinese. Ecco, vi dicevo, una città invisibile, una città costruita essenzialmente di fango pressato, quindi con tecniche costruttive non basate sui mattoni cotti, non basate sulla pietra, ma basate sui mattoni di fango, sui mattoni crudi, oppure basate sulla tecnica del Pizè, su una tecnica di costruzione che adesso vi farò vedere. Una città che quindi è continuamente erosa, una città che quindi è progressivamente distrutta dagli agenti atmosferici, dagli sbalzi climatici, dal passaggio dal caldo al freddo, che è molto forte in quella regione. Una città destinata a scomparire. Ecco che allora diventava importante il nostro lavoro, documentare, disegnare, interpretare. Era anche una città di cocci, perché dove non si conservano le strutture, dove non si conservano e si erodono i basamenti, le abitazioni, quello che rimane sono i resti della vita umana, i resti di pasto, i resti di pasto combusti, i frammenti ceramici. Le tracce delle mura, e qui è leggibile benissimo la tecnica del Pisee, che è la stessa tecnica che, cambiando un po' le cose, viene usata oggi, quando vi sarà capitato di vedere i muratori fare delle casseforme di legno in carpenteria, e poi inserire all'interno tondini di ferro e cemento. Ecco, il Pisee si fa in una maniera leggermente diversa. Si usano le casseforme, ma poi si pressa all'interno paglia e fango, paglia argila fangosa. Quando secca, si smonta la struttura e rimane un muro di terra. Un muro di terra. E qui si vede come il vento, gli agenti eolici, abbiano progressivamente messo in luce le fasi progressive di costruzione. Queste erano le cose che capivamo, che cominciavamo a imparare in quella missione. Cose diverse dalla nostra realtà archeologica, da quello a cui io ero abituato. E pian piano si andavano a verificare i disegni e le piante fatte con sistemi di rilievo assolutamente non rudimentali, ma manuali dai colleghi appunto che ci avevano preceduto e introducendo in quel contesto il rilievo strumentale, introducendo in quel contesto il recupero di informazioni tramite le foto satellitari, cercando di leggere gli spazi, di leggere attraverso la foto fatta dall'alto quello che dal basso non si poteva vedere, quindi operando quello che noi archeologi chiamiamo remote sensing, cioè la lettura del territorio tramite le foto aeree, le foto satellitari, e condividendo con i colleghi non tanto questo tipo di tecnologia, quanto oggi useremo il LIDAR, condividendo con i colleghi tutta una serie di informazioni, tutta una serie di dati, di letture, e soprattutto imparando a leggere le tecniche costruttive. In questa immagine in basso si vedono molto bene, scusate, torno indietro, non solo le fasi orizzontali, le fasi verticali di realizzazione, ma anche le fasi progressive e orizzontali di realizzazione del PISÈ. Poi c'era questa, che era un basamento al centro del sito, le foto sono molto brutte, sono ricavate da diapositive, ve lo dico, in quel tempo avevamo, 2001, avevamo una macchina digitale con pixel molto molto bassi, oggi sarebbe tutto diverso. Ecco, poi c'era questa, che era stata interpretata da Namio Egani come la chiesa costruita dall'arcivescovo Giovanni da Monte Corvino a Olonsumen quando la visita e trova che il sovrano è in qualche modo apparentato, è sposato con una donna cristianizzata manestoriana e li converte al cattolicesimo romano, prima di recarsi a Cambalucca a Pechino. Gli archeologi fanno questo molto spesso ma non solo questo, oggi cercherò di fare un ragionamento sulla distanza tra l'archeologo e i coci, però i reperti, i resti servono per cosa? Per capire la diacronia, per capire per quanto tempo è stata occupata questa città invisibile che rimane viva in effetti per l'età mongola, per un secolo, un secolo e qualche anno e il lavoro si fece semplicemente con una ricognizione a piedi, raccogliendo, documentando, disegnando, fotografando e elaborando strategie quantitative con l'idea di fare poi cosa? Di fare un progetto di scavo archeologico e lì la nostra ingenuità di archeologi italiani abituati a lavorare con le risorse necessarie e non un euro di più, allora erano lire e non una lira di più. Lì cozzammo contro la commercializzazione dell'archeologia perché nel momento in cui finita questa operazione archeologica ci venne chiesto dal governo cinese di elaborare un progetto ci venne presentato anche il conto poter scavare su questo sito ci dissero per tre anni veniva a costare l'equivalente oggi di un milione di euro e nessuna università italiana in questo momento o in quel momento poteva permettersi di avviare un progetto di indagine in quei luoghi. Rinunciamo tranquillamente serenamente non abbiamo realizzato ciò che avevamo c'eravamo proposti cioè di indagare un quadrante il quadrante nord vicino alla chiesa attribuita a Giovanni da Montecorvino da Nemio e Gami era la nostra idea ma rinunciamo tra l'altro qui vedete come le concentrazioni di reperti stanno a indicare il punto nodale il punto focale della presenza di un insediamento e piano piano si diradano quindi avevamo degli indicatori anche su dove realizzare i saggi di scavo che non abbiamo mai realizzato poi c'erano degli indicatori bellissimi delle fornaci per ceramica perfettamente leggibili direttamente sulla superficie del sito sarebbe stato bellissimo poter indagare nel quadro di un'archeologia della produzione dei modi del produrre capire la struttura l'organizzazione ce n'erano almeno quattro subito fuori delle mura sarebbe stato facilissimo e semplice poterle scavare ci siamo limitati a osservarle a fotografarle e a sognare di poterle scavare questi sono i cenotafi nestoriani cioè le pietre con i simboli cristiani che venivano che erano originariamente tutti intorno alla chiesa di Giovanni da Montecorvino attribuita a Giovanni da Montecorvino e poste sopra le sepolture e questo è il nostro spazio quotidiano alla fine del lavoro e la stanchezza che quel lavoro portava sono tornato in Cina altre quattro volte ma sempre come tecnico di scavo mai come specialista quanto ho ancora? 5 minuti benissimo in 5 minuti cercherò di raccontarvi anche l'avventura del Tempio della Croce anche questa andiamo avanti veloce sui paesaggi solo per ecco portare la vostra attenzione su questo il Fangshan è una regione interna piuttosto rurale caratterizzata da presenza di sepolture monumentali piuttosto importanti è caratterizzata dalla presenza del Tempio della Croce cioè di un Tempio buddista su cui all'inizio del Novecento tutti gli intellettuali inglesi e americani che in qualche modo si trovano a vivere e a lavorare in Cina nelle ambasciate nelle strutture si concentrano riempiendo di parole scritte le riviste in inglese del tempo perché perché viene segnalata la presenza di iscrizioni che rimandano a 80 km da Pechino alla Croce Cristiana e che rimandano a versetti in siriaco attenzione non in siriano in siriaco a versetti che appunto rimandano alla religione cristiana cosa vuol dire vuol dire che il sito del Tempio della Croce nel Fanshawn era stato prima il sito di una chiesa cattolica o più probabilmente nestoriana sì vuol dire questo lo spazio in cui ci muovevamo era uno spazio complesso difficile anche da accettare l'unica città quella dove risiedevamo vicino al Tempio della Croce era nel fondo della valle in un'area mineraria al mattino fate conto che al mattino la macchina andava completamente ripulita perché c'erano due dita di polvere di carbone ovunque era su di noi sui vestiti era nei capelli era in ogni cosa era sugli uomini sulle persone sulle cose lì ha percepito cosa poteva essere l'epopea dei nostri minatori dell'ottocento migranti nel momento in cui non c'era nessuna tutela possibile sulla salute del minatore però appena noi uscivamo da quello spazio sul fondo valle e salivamo verso la montagna arrivavamo in una zona verdissima ricchissima di acque dove ovunque c'erano tracce di attività umane antropiche insediative dove c'erano i resti del Tempio della Croce sotto forma di strutture sotto forma di basamenti sotto forma di immagini di iscrizioni di stele di iscrizioni su stele che andavano degotificate rette io personalmente nulla ci capivo ma per fortuna il mio collega sinologo era perfettamente in grado di decrittare capire comprendere e faceva anche da interprete perché io non parlo il cinese però io sapevo fare una cosa sapevo fare un rilievo sapevo fare una raccolta di superficie sapevo interpretare delle tracce per cui ho messo la mia esperienza di archeologo a servizio dei colleghi cinesi e del collega che poi ha insegnato nella nostra università anche qui progettammo un'indagine di scavo archeologico anche qui non la realizzammo non la realizzammo perché anche questa volta la possibilità di fare ricerca scientifica fu mercificata ci venne chiesto una una cifra esorbitante per poter fare quello che qui comunemente facciamo quotidianamente con delle risorse economiche e allora niente rinunciamo anche in quell'occasione rinunciamo e portamo il nostro interesse convintamente su un altro territorio di cui parlerò oggi che è quello dell'antica palestina che è quello della costa della costa siro-palestinese che noi oggi conosciamo come Siria-Libano piccola parte della Siria-Libano territorio di Israele territorio ahimè di Gaza ecco portiamo il nostro interesse lì e io lì ho lavorato dal 2006 al 2018 al 2022 ci lavorerò in futuro sperando che questa situazione muti muti con l'intelligenza degli uomini e la forza degli uomini e di questo parlerò oggi ma questi viaggi qua nell'esperienza di un archeologo allora giovane sono stati fantastici e cambiando giacca da archeologo mettendo quella da prorettore dell'università di Genova e sapendo che c'è un pubblico di giovani l'invito è naturale l'università di Genova offre molta opportunità a questa tradizionale area di studi guarda la città guarda il territorio guarda l'oltremare penso che in quest'anno avremo modo di raccontarvelo vi ringrazio grazie a Fabrizio Benente di questa sua esposizione anche emozionante nella sua diffusione nella sua concretezza nonostante tutte le difficoltà di cui ci ha narrato a questo punto abbiamo un cambio di come dire di marcia e di epoca perché è vero che questo è un convegno essenzialmente storico però visto che di geopolitica parliamo e della geopolitica che Genova già faceva in periodo medievale e su questo ci diffonderemo poi nelle sessioni del pomeriggio e dell'intera giornata di domani ho voluto che ci fosse comunque un affaccio sull'attualità e dato che Genova è stata molto esposta come ci ha detto Antonio Musarra sul Mar Nero e in Crimea era secondo me giusto dare uno sguardo sull'attualità e uno sguardo sulla Crimea e quello che ci darà Lucio Caracciolo che credo non ha bisogno di presentazioni come detto anticipatamente Lucio non era in perfette condizioni ma lo ringraziamo per essere in collegamento con noi direttore fondatore di Limes la rivista italiana di geopolitica editorialista della Repubblica e dell'Espresso insegna studi strategici all'Oluis di Roma e alla scuola di Limes di cui è fondatore è ovviamente uno dei maggiori esperti in assoluto di geopolitica nelle sue analisi guarda alla storia contemporanea da un punto di vista politico e geografico però anche sociologico giuridico economico e diplomatico ricordo i suoi ultimi due libri senza la guerra scritto con Massimo Cacciari Ernesto Galli della Loggia ed Elisabetta Rasì e la pace è finita so che Lucio ha un altro collegamento alle 12 quindi lo ringrazio per essere con noi e ha quindi tutto questo tempo per per parlarci grazie Lucio e benvenuto ma grazie a voi grazie Marco di questa opportunità un saluto cordialissimo alle amiche e agli amici di Palazzo Lucale noi di Limes siamo a casa e lo saremo anche a maggio dal 10 al 12 con il nostro festival l'idea di Marco di parlare dell'impero di Genova però ovviamente tra virgolette mi pare più che necessaria in un paese che non ne sa quasi nulla a scuola sono qualche riga nel discorso pubblico anche meno ma il passato di potenza di Genova potenza certamente commerciale ma non solo che all'estero per esempio in America o in altri paesi è molto più studiato e considerato che in Italia merita forse di essere più noto anche a noi italiani e a voi genovesi in particolare si parlava di Mar Nero e di Crimea e si parlava delle presenze e delle influenze medioevali di Genova in quest'area bene che cosa è oggi quest'area purtroppo è un'area oggi infestata e devastata dalla guerra cominciata e anche qui il discorso sarebbe piuttosto lungo ma per quanto riguarda la Crimea in particolare dall'intervento russo del 2014 con conseguente annessione alla federazione russa della penisola di Crimea non riconosciuta né dall'Ucraina né dalla quasi totalità degli stati di questo pianeta la Crimea è in realtà la vera grande posta in gioco della guerra fra Russia e Ucraina ed è la ragione per cui oggi si combatte così aspramente e con effetti così distruttivi nell'area del Mar Nero insisto su area del Mar Nero perché la guerra di Ucraina viene normalmente rappresentata anche cartograficamente come una guerra terrestre si disegna in particolare il fronte nell'Ucraina meridionale con le conquiste russe dopo l'invasione del 24 febbraio e con le fortificazioni le linee di resistenza che tagliano la parte meridionale dell'Ucraina dal resto del paese sì vero ma c'è una forte dimensione marittima in questa guerra che riguarda appunto il Mar Nero molto semplicemente senza sbocco al Mar Nero l'Ucraina è finita e ancora più semplicemente la Russia considera il Mar Nero un mare da controllare più o meno in modo permanente per potere di qui accedere via Mediterraneo ai mari caldi agli oceani oggi sappiamo che questa idea russa si sostanzia nella presenza della flotta del Mar Nero appunto con base a Sevastopoli una delle principali basi navali della Federazione russa e sappiamo come nel Mar Nero settentrionale si siano svolte anche operazioni di guerra con per esempio anche l'affondamento della nave russa a Moskva l'anno scorso o anche le battaglie intorno all'isola dei Serpenti un'isola contesa tra russi e ucraini e con qualche anche pretesa romena dal punto di vista russo questa guerra ha portato la conquista di fatto del mare di Azov più che un mare direi quasi una laguna visto che la sua profondità media è di 9 metri ma che ha un valore strategico notevolissimo perché connette attraverso un sistema di canali che sfrutta i grandi fiumi russi un collegamento fluviale commerciale ma anche militare tra il Mar Nero e il Mar Bianco con una battuta si potrebbe dire crea un mare juventino nel senso che risale appunto dal sud dal Mar Nero fino al Mar Bianco che poi non è altro che una parte del Mar Glaciale Artico attraverso questo sistema di canali passando anche per Mosca e giungendo fino a Khangelsk ecco la possibilità russa di connettere il Mar Bianco al Mar Nero l'Oceano Artico che dal punto di vista russo è l'Oceano Canonico dove la Russia controlla la quasi totalità della costa e controllare questa costa significa controllare la futura lotta commerciale più breve tra Oriente ed Europa è un must e questo implica tenere ovviamente il mare di Azov e quindi la penisola di Crimea le operazioni militari russe compiute in questo periodo sono infatti destinate ad allargare l'area di contatto tra la penisola di Crimea e la Russia propriamente detta di dargli una profondità strategica e di impedire agli ucraini di riprendersi quel territorio che ricordo fu ceduto in epoca sovietica dal capo del partito comunista sovietico Khrushchev all'Ucraina per ragioni sulle quali gli storici ancora dibattono i russi che hanno conquistato la Crimea dopo il periodo del canato tataro sotto egida ottomana nel 1784 considerano la Crimea qualcosa di irrinunciabile di pertinente alla loro storia e alla loro geopolitica cosa che ovviamente oggi affermano gli ucraini e questo rende la partita della Crimea particolarmente accesa voglio dire che fra tutti i territori contesi dove oggi si combatte la Crimea è certamente il più importante la vittoria della Russia o dell'Ucraina dipenderà dal fatto che la Crimea resti in mano russa o torni in mano ucraina questa sarà la vera misura del successo di una guerra che peraltro la Russia immaginava di combattere in maniera molto più rapida anzi non la chiamava e non la chiama ancora nemmeno guerra ma operazione militare speciale una specialità che sta diventando ordinaria soprattutto grazie alla puntata verso Kiev che avrebbe dovuto cedere nel giro di pochi giorni o addirittura accogliere le truppe russe in festa i soldati russi avevano nel loro zaino anche le divise da parata con le quali immaginavano di poter marciare per le vie centrali di Kiev acconti da una polla festante non è successo questo i russi hanno subito una severa sconfitta in questa prima fase della guerra che li ha indotti ad accorciare la linea del fronte e ad attestarsi a protezione e allargamento della Crimea e di Sebastopoli che come ricordavo nel 2014 Sebastopoli e Crimea sono state accolte nella federazione russa dopo un referendum non riconosciuto né dall'ONU né in genere dagli altri paesi ma con cui la Russia ha cercato di dare una base legale a questa sua conquista il valore della Crimea quindi è contemporaneamente strategico simbolico e storico se prendete per esempio i discorsi di Putin e anche alcuni recenti libri di testo che informano i giovani gli studenti russi sulla Crimea e in generale sulla situazione nel Mar Nero in Ucraina il riferimento alto all'epoca zarista a una figura come la grande Caterina è costante esibito e di profondo valore pedagogico nel senso che il richiamo dell'attuale regime russo non è tanto anzi non è affatto al periodo sovietico ma semmai al periodo imperiale zarista e ai più famosi e importanti zar o nel caso di Caterina zarine di quel grande impero se noi rovesciamo la prospettiva e guardiamo la Crimea e il Mar Nero dal punto di vista ucraino ci rendiamo conto come la visione ucraina sia perfettamente speculare a quella russa cioè consideri anzi forse ritenga ancora più importante l'accesso al Mar Nero e quindi alla penisola di Crimea perché altrimenti l'Ucraina quale che sia il confine terrestre con la Russia e molto probabilmente alla fine della guerra non sarà il confine che esisteva prima della guerra quella Ucraina sarebbe confinata in uno spazio terrestre privo di sbocco al mare cioè privo della possibilità di commerciare con il resto del mondo per un paese che per esempio era famoso per le esportazioni di cereali in tutto il mondo sarebbe un colpo assolutamente fatale e inconcepibile questo spiega anche l'accanimento con cui gli ucraini si battono per cercare di mantenere l'accesso al mare in particolare in questa fase il timore ucraino è che prima o poi i russi possano puntare su Odessa a proposito di affinità con la nostra storia e la nostra cultura Odessa per certi aspetti è perfino più importante per noi come memoria storica intendo ma per il momento non mi pare che ci sia questo rischio ma certamente se Odessa dovesse cadere in mani russe per l'Ucraina sarebbe se non la fine certamente l'inizio della fine perché sarebbe costretta in uno spazio terrestre dominato dalla Russia come vedete non c'è molto da sperare in una soluzione di compromesso in una soluzione pacifica quello che ragionevolmente in questa fase si può immaginare ma più sperare che immaginare è un cessato il fuoco che quantomeno fermi questo massacro ma una pace vera una pace sentita e condivisa da ucraini e russi mi pare molto lontana anche perché visto che siamo in un ambiente storico dobbiamo ricordare che questa guerra può essere letta storicamente anche come una guerra cominciata nel 1917 1918 quando il movimento nazionalista ucraino acquista un suo corpo e una sua relativa forza si afferma anche sotto protezione tedesca un primo stato indipendente ucraino fino a che Lenin fondando l'unione sovietica battezza la repubblica socialista sovietica di ucraina che poi fino al 1991 resterà nello spazio sovietico per abbandonarlo contemporaneamente alle altre repubbliche sovietiche quindi questa profondità storica è almeno secolare e si inquadra in quella che è la fase di disintegrazione dei grandi imperi che dominavano il pianeta nell'ottocento a cominciare dagli imperi europei quindi anche l'impero russo e l'affermazione di movimenti nazionalisti indipendentisti dal punto di vista dell'impero secessionisti che vogliono affermare la propria statualità in contrapposizione all'impero di pertinenza e questo è certamente il caso della partita fra ucraini e russi o quantomeno fra una parte degli ucraini e una parte dei russi non vi ho dato credo un quadro particolarmente confortante della situazione ma non spetta a me abbellire una realtà così triste oltre a sperare che si trovi una soluzione non di pace dicevo ma di cessate il fuoco che poi permetta anche all'ucraina di poter ricostruire e essere integrata in uno spazio europeo allargato beh tutto questo appartiene come dicevo più all'ordine della speranza e della buona volontà che all'ordine di ciò che accade sul terreno ma non voglio annoiarvi e intristirvi troppo con la realtà attuale di quelle che una volta erano aree battute dagli antenati genovesi ma anche veneziani ed altri e quindi per fortuna rituffatevi voi che potete nel passato grazie è un privilegio è un privilegio Lucio averti ascoltato aver ascoltato questo tuo affaccio sull'attualità della guerra fra Russia e Ucraina e di quello che accade in Crimea io cercherò nel pomeriggio visto che tu eri previsto ma naturalmente intanto ti ringrazio per questo collegamento di riportare quello che hai detto all'inizio della sessione pomeridiana che ovviamente continuerà il nostro discorso su Genova nel Medioevo ma naturalmente il ritorno anche alla realtà e alla situazione sul terreno e a quella diplomatica naturalmente è ineludibile quindi grazie Lucio Caracciolo e lo aspettiamo ovviamente a Genova per il nostro prossimo festival di Lime Samaggio grazie bene grazie a voi abbiamo concluso con queste tre intense relazioni la prima sessione del mattino vi diamo appuntamento alle 16.15 per l'inizio vero e proprio dei lavori i nostri 15 relatori sono presenti in prima fila e naturalmente potrete seguire il resto dei lavori anche su il canale di Palazzo Ducale grazie a voi dell'attenzione grazie ai professori grazie ai docenti grazie ai ragazzi a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti